Ben like this, Megan Trainor, 7.36 minuti, ben ritrovati ancora qui su Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM e ci ha raggiunto in studio un ospite e quindi diamo il benvenuto e il buongiorno a Michele Giacalone Funzione pubblica CGL Lombardia per quello che riguarda i Vigili del Fuoco in quanto capo reparto operativo e anzi è coordinatore dei Vigili del Fuoco. Buongiorno Giacalone, come va? Buongiorno a tutti voi, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei Giacalone di essere venuto, siamo contenti di avere ancora la Funzione pubblica CGL che ci racconta sempre delle cose interessanti su quello che appunto sono quelle funzioni che hanno a che fare con noi cittadini e che voi speriamo di incontrarvi il meno possibile No, noi ne abbiamo fatte anche cose non sempre disastrose, diciamo, quindi per fortuna anzi siete importanti tanto quanto la Funzione pubblica che è tutte quelle realtà che hanno a che fare con, da una parte appunto sono pubbliche e hanno a che fare con i cittadini poi quando ci interfacciamo. In questo caso parliamo di Vigili del Fuoco perché insomma bello, siete i nostri eroi, racconta questo, Giacalone siete i nostri eroi grazie che ci siete, vi vogliamo bene e tutto, però poi insomma non è così semplice fare il Vigili del Fuoco e non solo per quello che state pensando voi a casa cioè non è solo un discorso del pericolo, il fuoco, le situazioni, no anche perché insomma è un lavoro che non è che proprio abbia tutte queste tutele sembrerebbe almeno da quello che appunto la FPCGL Lombardia porta avanti ma so che anche lì nella nazionale in realtà. Sì, confermo. Allora intanto volevo cominciare con un aneddoto. Voi come programma radiofonico vi occupate di musica, appunto poco di musica, vorrei partire proprio dalla famosa canzoncina che sentiamo spesso canticchiare quando passiamo, quando c'è la presenza dei Vigili del Fuoco la canzoncina quella, il pompiere paura non ne ha. Ecco, sì. E proprio qua mi vorrei soffermare che non è proprio vero che il pompiere paura non ne ha, il pompiere ha paura e ha paura oggi sempre di più per la propria salute. Abbiamo paura per la nostra salute. È un lavoro a rischio e la nostra salute è sempre più a rischio. Quali sono questi rischi? Perché in mezzo agli incendi è ovvio che è il rischio. Ma non è quello. Non è la paura di quel rischio là. È la paura proprio delle malattie. Ecco. Malattie della salute. Rischio di malattie cardiovascolari, malattie tumorali, malattie che sono riconducibili anche allo stress post-intervento. Ok. L'intervento ha un suo stress non indifferente. Immagino. Allora gli ultimi dati sono veramente sconcertanti. Io vi dico solo che l'OMS che serve l'Organizzazione Mondiale della Sanità legge testalmente, ha rilasciato, cioè ha riclassificato la lotta antincendio, quindi è collocato i vigili del fuoco al più alto livello di rischio professionale legato proprio al cancro. E quindi questa decisione è stata, è arrivata dopo un lavoro approfondito fatto dall'AIC. Ok. Quindi su questo non ci piove. Quindi per la scienza siamo una categoria a rischio. A rischio di cancro, a rischio di malattie cardiovascolari, a rischio di stress legato proprio al nostro tipo di lavoro. Però la nostra amministrazione, proprio è proprio quello, la nostra amministrazione non ha mai monitorato questi dati. Non esiste un sistema di monitoraggio adeguato. E in più continuiamo a non avere una copertura INAIL. Incredibile ma vero. Fermi tutto, fermi tutto, ferma tutto qua Giacalone. Allora, cosa significa che non avete una copertura? Cioè nel senso ce l'ha chiunque, nel senso adesso non vorrei dire, ma nel senso l'assicurazione INAIL, ogni lavoratore che ha un rischio, anzi ci sono le classi di rischio INAIL, adesso dico una cosa, anche i nostri tirocinanti che vengono qui a fare il tirocinio curriculare hanno una categoria INAIL e l'università fa la categoria INAIL. Molti non lo sanno, è un paradosso, molti non lo sanno, noi non ce l'abbiamo, non abbiamo una copertura INAIL, non siamo considerati una categoria usurante, non facciamo parte di quelle categorie. Alla faccia. E se non è usurante il Vigile del Fuoco, vorrei sapere quale lavoro lo sia. Nel frattempo comunque è arrivato un Whatsapp da Alberto che dice un saluto particolare a tutti i Vigili del Fuoco, quindi vedi che subito come i cittadini comunque vi vogliono bene, c'è poco da fare, no? Indubbiamente, in questo siamo ben felici. Ecco, vi vuole essere bene che qualcun altro sarebbe meglio, raggiungo io. Sì, sì. Allora da anni la CGL si batte su questi temi appunto per denunciare la cosa, la famosa particella passa. Cos'è questa particella passa? Io l'ho letto sia sui vostri comunicati, abbiamo trovato anche dei comunicati della funzione pubblica del Friuli, quindi insomma è una roba nazionale, cioè avete scoperto, avete portato alla luce la particella pazza. Che cos'è la particella pazza? Allora, è una particella piccolissima che è presente su tutti i residui della combustione, quindi il famoso fumo nero che vediamo durante gli incendi, là si annida questa nanoparticella. È un lavoro di ricerca effettuato dal nostro responsabile di salute e sicurezza di funzione pubblica CGL a Roma ed è spiegata in svariate iniziative e occasioni, sia in Italia che anche all'estero. È uno dei veri intollerabili problemi per la salute dei vigili del fuoco. In poche parole, i nostri DP, dispositivi di protezione, che non sono solo le mascherine per capire che escono da casa. È tutto il vestito, la tuta, il casco, tutto. Non sono sufficienti appunto per intercettare queste nanoparticelle che filtrano attraverso l'epidermide, ci contaminano. Una buona decontaminazione post-incendio potrebbe essere una minima soluzione al problema, ma ci vogliono altri DP di ricambio. Noi ne abbiamo 82. Lei dà per scontato le cose, ma come due? Cioè voi avete la tuta, la bellissima tuta che ogni bambino vorrebbe avere, che noi quando vediamo passare rimaniamo a bocca aperta. Quante tute ha un vigile del fuoco? Due in dotazione. Quindi se io quel giorno la sporco perché faccio un incendio grosso, il giorno dopo metto un'altra e la sporco perché faccio un incendio grosso, devo correre a prenderla prima che magari non l'ho condita. Correrò perché in lavanderia giustamente almeno una settimana passa. E qui mi devo rimettere quella sporca? Certo. Gli do la scollata e via? Certo. La lascio fuori a prendere aria? Certo. Cosa che facciamo... Ma almeno di tuta ne abbiamo due, ma il casco, il nostro elmo e il sottoelmo è una cosa molto delicata, anche il guanto da lavoro. Sì. Quello ne abbiamo soltanto uno. Come uno? Sì. E come fate a cambiare? Un sottocasco e un paio di guanti. Capite il mio stupore nel sentire queste cose. Perché davvero non se lo aspetterebbe mai qualcuno che ci sia questa situazione. Giaccarone, la fermo un secondo. Andiamo con una canzone e poi torniamo ancora però a parlare perché sono tante anche le altre situazioni che state cercando di portare alla luce. Anche perché non credo sia facile appunto in una situazione del genere riuscire poi a lavorare serenamente, tranquillamente. Sappiamo che spesso poi è una questione anche di famiglia a volte il Vigile del Fuoco. Che bello anche quello. Si passa di padre in figlio, si passa magari ai figli, si passa anche adesso magari anche alle compagne, alle mogli, perché sappiamo che finalmente sono arrivati anche i... E sulle donne poi potrei spiegare anche... Ah, ecco, vedi, vedi, vedi. E allora Adele con Set Fire on the Rain. Adele, Set Fire on the Rain. Ovviamente, beh, non potevo che non mettere una canzone con la parola Fire nel titolo, ovviamente, perché stiamo parlando con Michele Giacalone della Funzione Pubblica Lombardia per quello che riguarda i Vigili del Fuoco, capo reparto operativo dei Vigili del Fuoco. Allora, stavamo dicendo come, appunto, quello che sembra tutto per noi così scontato, in realtà non è. Ad esempio le dotazioni che avete. Dovete portarvi a casa l'intimo da lavare. E perché apriamo l'intimo? Perché quella famosa particella pazza di cui parlavamo prima, questa particella microesimale infinitivisamente piccola, che passa dappertutto, ve la ritrovate anche sui vostri indumenti. Certo, la nanoparticella che penetra attraverso i nostri DP, quindi anche il nostro intimo, che poi portiamo a casa a lavare, andiamo a contaminare di fatto anche le vostre famiglie. E questa nanoparticella può portare a delle malattie molto, anche molto gravi. Che mi dicevi, a volte però vengono, diciamo, in un certo senso, adesso passatemi in termini, nascoste, nel senso che perché c'è una problematica legata al fatto di, se si sa che sei malato e guarisci, va bene tutto, però poi non sei più operativo. Giusto, come funziona questa cosa? Certo, diciamo che è un paradosso, oltredando la beffa, cioè un vigile del fuoco che contrae una patologia così grave, di fatto poi perde l'operatività. Quindi di fatto viene traslato, viene preso e portato nel reparto degli amministrativi, quindi passa sotto il settore amministrativo. E qui non è un problema di dire, eh non voglio andare in ufficio. Il problema è che oltre a perdere l'operatività, che lui dice, beh magari è anche meglio, insomma è stato male e tutto, ma perde anche dei soldi. Perde anche parecchi soldi. All'incirca? Parliamo di una media di 500-600 euro al mese. Oltre ad aver avuto un cancro, magari, o una malattia, ma comunque... Quindi qua il paradosso qual è? Io conosco colleghi, molti colleghi, che hanno contratto il cancro, per esempio, o un'altra malattia legata a questo tipo di patologia, e per paura si sono nascosti, hanno nascosto all'amministrazione di avere questo tipo di patologia. Addirittura andandosi ad operare, facendo l'echemio, mettendosi in ferie. Appunto per evitare di essere scoperti, e quindi andare avanti, appunto per non perdere quella parte economica. E quindi chiedete anche più controlli sanitari, che siano anche però controllati, che voi siate controllati di più, perché cercare di prevenire in realtà questi momenti, giusto? Sicuramente non c'è nessun riconoscimento sulla dipendenza della causa di servizio. Quello che pretendiamo da tempo, come CGL, sono i controlli sanitari più approfonditi sul settore, quindi un qualcosa di più mirato, e non ogni due o tre anni, come avviene oggi, ma almeno con una cadenza annuale. Fuori onda, se non mi ricordo male, mi ricordava che appunto voi questa distanza l'avete portata anche alla Commissione Europea, no? Siete andati fino a Bruxelles o a Sassburghe, se non mi ricordo dove, a portare questa cosa. E qualcuno vi ha ascoltato, il problema è che vi hanno ascoltato i francesi, giusto? Cos'è successo? Io sorrido, ma insomma è drammatica in realtà. Il paradossal è quello, il lavoro fatto da Funzione Pubblica CGL è nostra, italiana, gli altri la prendono e la portano avanti, noi in Italia ancora siamo indietro. E cosa hanno fatto i francesi? Proprio l'altro ieri è arrivata una notizia che per noi è confortante, ci spinge ad andare ancora avanti a battere il pugno sul tavolo. Nella sua essere così sconfortante il dato è che vi conforta però nel senso che state facendo la battaglia giusta, infatti. Sono riusciti a fare l'esame del capello a 30 vigili del fuoco e sono risultati positivi appunto a questa nanoparticella che è il PFSA e questo è un dato che conferma. Hanno preso 30 vigili del fuoco a caso, gli hanno fatto l'esame del capello e hanno visto che tutti quanti hanno la particella dentro. Nel frattempo salutiamo invece Adriana che ci scrive appunto un whatsapp dicendo purtroppo sono arrivata al lavoro, vi devo salutare ma è davvero interessante tutto quello che state raccontando. Quindi vedi come comunque almeno il nostro pubblico è tutto orecchie per voi vigili del fuoco. Prima abbiamo parlato un attimino dicendo che appunto è anche a volte una questione di famiglia, nel senso che è bello, anzi soprattutto questa cosa che non è nipotismo o cosa, ma è bello vedere come la passione per questo lavoro passa di generazione in generazione e a volte, ormai da una ventina d'anni, quant'è che ci sono anche le donne all'interno dei... Le donne sono... La prima donna è entrata nei vigili del fuoco circa 25 anni fa. 25 anni fa, ok. E immagino che insomma 25 anni fa non sia stato proprio facilissimo gestire le caserme con l'arrivo di una donna insomma e tutto e quindi immagino che insomma sia tutto completamente a posto. Potevamo giustificare 25 anni fa il fatto di non essere preparati, ma dopo 25 anni abbiamo parecchie sedi di servizio in tutta Italia, in tutto il territorio nazionale che non hanno le caserme idonee, la struttura idonea per poter ospitare all'interno di una sezione operativa una donna, quindi anche lì c'è una discriminazione anche sugli spostamenti su dove poter andare ad operare. Dico ma oltre ai problemi legati alla salute ci sono altri dati allarmanti che riguardano proprio il nostro organico, il nostro organico a livello nazionale, però io voglio parlare proprio della Lombardia. Lombardia, giusto, ha capito lo spirito di Good Morning Milano. Per farvi un esempio vi fornisco alcuni dati, per esempio gli interventi dei Vigili del Fuoco nell'anno scorso, nel 2023, circa 120.000 su tutta la Lombardia. Il Vigili del Fuoco, proprio il personale operativo, si attesta intorno ai 3.000 in tutta la Lombardia, di cui divisi in quattro turni di 12 ore, abbiamo una media di dalle 5 alle 600 persone effettive in servizio ogni giorno, su tutta la Lombardia, siamo veramente poco. A fronte di un personale amministrativo che supporta tutto il lavoro fatto, tutto quello che c'è dietro, sono 300 circa in tutta la Lombardia, anche lì sono pochini, e abbiamo una carenza, se la vogliamo strutturare poco sui numeri, quasi del 40%. Cioè mancano più o meno il 40% di personale per far sì che voi facciate il lavoro che già state facendo bene, ma insomma magari farlo un po' più anche rilassati e sereni. In tutto questo veniamo supportati anche dal personale volontario che abbiamo in Lombardia, circa 1.500 ragazzi volontari che supportano il personale operativo, ma anche loro giustamente lavorando possono riuscire a coprire i turni notturni, per esempio, e i fine settimana. Non è quella proprio la soluzione, però ci danno anche loro una grossa mano. Per fortuna che ci sono, non dovrebbe essere quella però la soluzione finale. Assolutamente, per esempio lo standard europeo in Europa, paesi un po' più avanti, c'è uno standard di un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti. Ok, noi siamo a… In Italia siamo uno ogni 15.000, è una questione di zero. Ah, ma magari non bisogna fare la conversione con i zero, infatti dai. Noi continuiamo ad andare avanti per inerzia, perché appunto per la buona volontà dei singoli, per il lavoro che noi crediamo di portare avanti, crediamo alla nostra divisa, che la portiamo con onore. L'onore appunto di dimostrare il valore che continuiamo a dare giornalmente alle richieste di aiuto di tutti i cittadini, per qualsiasi tipo di intervento. Un dato preoccupante è quello appunto della carenza d'organico, e nello specifico in Lombardia ci attestiamo appunto a quel numero che ti dicevo io, una media del quasi del 40%, e sono anni che noi denunciamo questa situazione. Noi siamo passati dalla chiusura straordinaria, e sottolineo straordinaria, di qualche mese fa, solo di un turno di servizio di qualche distaccamento. Parliamo di staccamenti cittadini. La sospensione dell'unica squadra operativa in un capoluogo di provincia, appunto per la mancanza di personale. Non ho personale, chiudo il distaccamento, quindi vado a limitare quel soccorso tecnico urgente alla popolazione stessa. Ecco, questa mancanza di organico come mai? Quali sono le problematiche che ci sono dietro? Non ci sono assunzioni? La gente non si avvicina? No, 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 la gente si avvicina ma non ci sono assunzioni, non ci sono soldi stanziati dai governi che si succedono, tali da... Su questo siamo democratici, vede? Tutti i governi non hanno avuto... No, no, sono sempre con il contagoccio, sempre con... quindi non è... ma ti dicevo, il fatto di... si cerca oggi di limitare la chiusura dei distaccamenti, di limitare anche il soccorso tecnico urgente alla popolazione, quindi io non chiudo il distaccamento, ma lascio il personale operativo che deve soccorrere, non in cinque unità, come la legge ci impone e come è giusto che sia, c'è un equipaggio che deve essere composto da almeno cinque persone, lo porto a tre, lo lascio operativo, ma così vado a limitare il tipo di soccorso che posso andare a fare. Quindi chi ne paga le conseguenze, poi alla fine è sempre il cittadino. Allora, i Vigili del Fuoco negli anni si sono sempre più specializzati, questa è una cosa che volevo far conoscere anche, è un dato che volevo far conoscere a tutti, si sono specializzati in tecniche di soccorso particolari, che possono essere i fluviali, ma sono fluviali, lavori in quota, i nuclei NBCR che sono quelli che si occupano del nucleare biologico, chimico e radiologico, la topografia applicata al soccorso, abbiamo i piloti di droni, gli elicotteristi, sommozzatori, potrei stare qui. Avete, lo dico da persona che lavora nella comunicazione, uno dei reparti di videoproduzioni più bello che ci sia in Italia. I più grandi, anche questa cosa, magari non lo so se da Giacomo lo sa, ma sa che i più grandi operatori di ripresa a livello professionistico in Italia arrivano dalla scuola dei Vigili del Fuoco, io ho avuto colleghi per anni che arrivavano. Ti posso confermare. Quindi, insomma, è tanta roba il Vigili del Fuoco. Abbiamo i nucleo investigativi, abbiamo il nucleo cinofili, abbiamo gli specialisti sulla ricerca in macerie, il famoso USAR, strumentazione avanzati per la ricerca di persone scomparsi, anche questo sta avendo anche un'eccellenza che però viene sempre... E i laboratori, laboratori di analisi, sulle analisi di acceleranti, di campioni che andiamo a fare come nucleo investigativo. Mi viene da dire che, insomma, sarebbe un investimento interessante da fare su di voi, cioè... Certo, però tutto questo, tutte queste specializzazioni hanno bisogno, cioè per essere mantenuti necessita un periodo di mantenimento che va fatto ogni sei mesi, ogni anno, che non si riesce a fare nel turno di servizio, perché siamo in pochi, non si riesce a fare, come lo prevede il contratto di lavoro, che questi mantenimenti vanno fatti all'interno del turno di servizio, ma essendo in pochi, si tende ad andarlo a fare nel turno libero, quindi il turno libero dal servizio in straordinario. Ma questo che cosa significa? Cioè, andiamo all'affare di straordinario, andiamo ad aumentare i ricarichi di lavoro di tutto il personale, giusto? Appunto per evitare di andare a indebolire proprio la macchina del soccorso stesso. E poi non ci sono i soldi per pagarli questi straordinari. Ottimo! Sapevo che era dietro l'angolo. Le ore vanno a finire in una banca delle ore, tutto questo è inaccettabile. È abbastanza. Come CGL mi sento dire, è inaccettabile. La soluzione a tutto questo? Assunzioni. Assunzioni. Dobbiamo assumere, devono assumere. Quindi ecco, io volevo appunto chiudere con questo. Quali sono le richieste della funzione pubblica CGL? Che dobbiamo assumere. Le assunzioni. Il Corpo Nazionale oggi conta circa 32-33 mila vigili del fuoco operativi. Ne servono almeno 50 mila. 50 mila. Siamo in pochi. Ecco, siamo in chiusura. So che però appunto voleva rivolgere anche un appello ai più giovani, giusto? O sbaglio? So che si era preparato un po', ma dobbiamo andare a chiudere perché c'è il giornale radio che bussa alle porte della nostra redazione, quindi Giacomo, le lascio la chiusura appunto come CGL Lombardia, come funzione pubblica, ma soprattutto come vigile del fuoco. Cosa, come vuole concludere? Intanto concludevo che è solo fermando lo straordinario, questi carichi di lavoro eccessivi, che riusciamo a sbloccare le assunzioni. Ok. Ai giovani, quello che, cioè, volevo parlare anche... Voi potete fare sciopero? Domanda, ad esempio. Sulla carta sì, però lo sciopero significa, cioè, non significa che se ce la chiamate soccorso non prendi l'automobile e esci. Ecco, ecco, assolutamente. Volevo arrivare lì, volevo arrivare. La CGL è quella che tutela i lavoratori da sempre, questo è quello che volevo dire i giovani, è il DP del vigile del fuoco. Eh sì, oltre alla tuta c'è anche il sindacato. Quello che lotta per tutelare è la salute in primis, e quindi meno straordinari, più una busta paga che è correlata al rischio che corriamo, non quella irrisoria che prendiamo. Più tutela, immagino. Quindi la salvaguardia della salute. E assunzioni per colmare la ormai critica situazione di disagio che viviamo tutti i giorni. Poi, non abbiamo il tempo, e questo mi dispiace, perché voglio parlare della... Giacalone, torna qui, mica la chiamiamo ancora, ci mancherebbe. Quello sicuramente, perché c'è tanta carne al fuoco. Infatti, al fuoco. C'è tanta roba. Usate anche voi tanta carne al fuoco, oppure si può usare come termine, come dice, vorrei che mi spegni il fuoco e non mi cuocio la carne. Assolutamente. Bene, no, Giacalone, è stato molto interessante averla qui, veramente la vogliamo ancora qui con noi, perché sappiamo quanto, insomma, è importante quello che portate avanti, e quanto portate il vostro lavoro, e cercare che, insomma, io quello che dico, cioè, che si faccia almeno, non ti dico sempre felice, soprattutto gli unicorni, ma come dire, in serenità e con le tutele dovute nel caso, e magari con qualche collega in più, visto che insomma davvero... Oggi manca. Ricordiamo quanti in Italia siete più o meno attualmente? 30.000. E ne servirebbero? Almeno 50. Ecco, questo è il dato con cui volevo ringraziare, appunto, il nostro ospite di questa mattina. Grazie a voi. Grazie mille a Michele Giacalone, capo reparto operativo e coordinatore Vigili del Fuoco della FPCGL Lombardia, grazie mille davvero, porta i saluti a tutto il vostro corpo, insomma, a tutti i colleghi che sicuramente stanno ascoltando anche in questo momento, grazie anche ai Whatsapp che stanno arrivando, che si congratulano e ringraziano per il grande lavoro che fate, perché davvero ci siete sempre, quando serve ci siete sempre. Ci saremo sempre. E ci sarete sempre. Grazie mille. Nonostante a tutti.